Mi chiamo Axel Foley, sono un ispettore dell'edilizia di Beverly Hills. Axel Foley è tornato. Ed è tornato in azione con i vecchi amici. Quanto tempo ci mette di solito a rasarsi le gambe? Voglio sopporre che si tratti di un complimento. No, a dir la verità le stavo offrendo soltanto il mio aiuto. Se ne vado fuori di qui. Sparisca degenerato. E perché sono nero? Fuori. Questo distintivo è di Detroit. Che cosa è venuto a fare a Beverly Hills? Di spiegarle che sarò molto, molto, molto più incognito. È tornato in un posto che non è il suo. Scusi, dove sono i proprietari della casa? Sono in vacanza alle Hawaii, tanto che noi lavoriamo. Se l'hai rubata questa casa? Come cazzo si fa a rubare una casa? Questa è casa di mio zio. Uno meno sportivo non c'era? Non lamentarti. C'era questo soltanto. I freni almeno funzionano. Non lo so Axel, finora non li ho usati. Ehi, suona l'allarme, c'è una rapina. Occorre un'autorizzazione. Autorizzata! Non preoccuparti capo, penso a tutto io. È proprio questo che mi preoccupa. Eddie Murphy, un piedipiatti a Beverly Hills, numero 2. Los Angeles Trema, per la seconda volta.